SCP-017 è contenuto in una gabbia di vetro acrilico di 100 cm per 50 cm. Sospesa al centro di una camera di calcestruzzo che misura 6 metri per 6 metri per 6 metri. Attaccate alle pareti, al soffitto e sul pavimento della stanza ci sono lampade ad arco ad alta intensità, puntate direttamente sulla gabbia acrilica, per garantire che SCP-017 sia costantemente esposto alla luce da ogni angolazione. Il personale responsabile al controllo di SCP-017 deve costantemente monitorare il corretto funzionamento delle lampade e del sistema del generatore d'emergenza e chiamare immediatamente l'assistenza se qualcuno è a conoscenza che una lampada è fusa o c'è un problema al generatore. L'unica circostanza in cui è consentito al personale di entrare è quello di sostituire le lampade. Il personale è autorizzato ad indossare tutte le riflettenti assegnate e devono evitare di passare davanti alla luce funzionante. SCP-017 è una figura umanoide alta circa 76 centimetri, anatomicamente simile ad un bambino piccolo, ma senza le caratteristiche che lo identifichino. SCP-017 è composto da pomo nero e ombra, simile ad un lenzuolo. Niente è stato trovato sotto il sudario, ma le possibilità non si escludono. SCP-017 reagisce alle ombre prodotte su di esso, con rapidità immediata. SCP-017 salta sull'oggetto che produce l'ombra e la raccoglie completamente sotto il lenzuolo. Dopodiché ritorna alla sua forma originale, senza lasciare traccia dell'oggetto. Sous-titrage Société Radio-Canada Grazie 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 Grazie